Ok, ci siamo? Siamo live? Sì? Mi sentite? Io guardo voi perché non... Eh? Sì? Ok. Abbiamo anche un nuovo microfono qua in salotto pangramma. Dite come si sente. Posso anche parlare sottovoce. Mi sentite? Ciao a tutti e benvenuti in salotto pangramma. Siamo fisicamente nel nostro salotto, siamo qua nel nostro studio che il giovedì sera si trasforma in un salottino un po' aperto a tutti, virtualmente. Questo si può fare in questo periodo. Siamo felici però di potervi ospitare sul nostro canale. Non dico quale, tanto tutte e due. Salotto pangramma e anche un gruppo Facebook. Sul gruppo Facebook durante la settimana ci confrontiamo su alcuni temi. È un po' una sorta di nostro piccolo forum dove ci scambiamo informazioni, ci confrontiamo, ci scambiamo i link. Dalla prossima settimana ritornerà anche Pimp My Work e quindi potete venire lì ad autopromuovervi che è sempre una cosa bella. Il tema che abbiamo dato questa settimana è il pricing. Un tema che è un po' croce delizia di noi freelance. È un tema che si sottovaluta, si sopravvaluta, in generale spaventa. Non si sa da che parte girarsi, non ci sono dei tariffari condivisi, non si sa quale sia il criterio giusto e trovare probabilmente anche il proprio è un percorso un po' lungo e che richiede continui esercizi, ricerche, sforzi per trovare il proprio equilibrio. Perché probabilmente alla base di un buon pricing sicuramente c'è innanzitutto una buona consapevolezza di se stessi. Ne abbiamo parlato anche la scorsa volta rispetto a questo concetto, cioè dell'essere consapevoli, riferito alla promozione e quello che è venuto fuori nella chiacchierata che abbiamo fatto con Silvia e Bob, che vi invito a recuperare, è proprio quello che un pochettino siamo ancora un po' timidi, ci prendiamo troppo sul serio, ci spaventa il concetto di esporsi. Quindi esattamente come siamo un pochettino così diciamo trattenuti dal farci una vera e propria promozione, allo stesso tempo forse siamo trattenuti anche ad alzare il prezzo, anche a chiedere la cifra che avevamo in mente. Probabilmente un pochettino c'è la tendenza a sottovalutarsi, forse, non lo so. Lo approfondiamo oggi in questa puntata. Abbiamo due ospiti, sono molto 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 contenta di averli qui per due motivi, uno perché sono dei grandi e due perché in realtà loro erano già venuti qua nel salotto fisico la scorsa stagione quando gli incontri si potevano fare ancora di presenza. Sono molto 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 contenta di avere qui con noi Cristina Portolano e Marco Coran Romano. Ciao! 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 Benvenuti, benvenuti su... posso dirlo? Dai lo dico, su Twitch. Benvenuti, perché c'è quel giochino che sei dall'altra parte, sei in gioco. Però vabbè, benvenuti. Tenta di stare su Twitch per la prima volta! No! C'era un posto in cui ancora non eravate stati? Io mai! Io mai! No, che smacco! Per me la prima è la prima e sono molto contenta. Allora, vi abbiamo invitato perché di norma cerchiamo di prendere ispirazione da quelli bravi, si può dire. Cerchiamo di intercettare magari freelance, anche junior che si stanno formando, che cercano un po' di capire la definizione della propria carriera e Cristina e Marco si spendono tantissimo per diffondere questa cultura positiva e propositiva del lavorare bene con la qualità e con il progetto. Quindi ecco perché siete qui, perché vi stimo e secondo me potete essere davvero di grande ispirazione per chi si sta formando, chi in questo momento è un pochettino così, ancora confuso, ecco, sulla propria carriera. Quindi grazie per essere qui. Grazie a te per averci invitato, per avermi parlato anche a tutti di Cristina. Allora, qui vedo il tuo soppalco che mi rassicura, perché penso che va tutto bene nella sua camionetta e quindi ci sta. Non l'abbiamo avuta nel mio spalco. Dalle interviste sotto la soppalco, dove è stato anche Marco, è stato un po' di primissimi a avere l'onore e l'onere di essere intervistato sotto la soppalco. Poi, un po' per mia fortuna, devo dire, c'è stata questa pandemia globale che aveva fatto così, che io potessi invitarli direttamente live, così come stiamo facendo noi adesso. E quindi poi mi piacciono anche quella di interviste a bombissimi. Allora, se vi va? Vai, vai, vai. Ok, mi dicono che c'è un problema con l'audio. Ottimo! Un eco? Io non vedo Twitch, non ho aperto nulla, eh. Allora, voi dal telefono potete aprirlo. Abbiamo un problema, nel senso che abbiamo in questo momento un po' di eco, mi dicono, dalla regia. E quindi dobbiamo un pochettino risolverlo. Tanto qua si può fare con calma, cioè nel senso non c'è fretta. Io ho la schermata di Twitch accesa, ma l'ho mutata dal browser. Eh beh, sì, certo. Proprio la scheda, il sito Twitch per me è mutata. Ok. Ok. Vabbè, ma io intanto posso fargli delle domande comunque? Sì. Ok. Secondo me, giusto per entrare un pochettino così nel mood della puntata e del tema, volevo farvi delle domande un po' rapide per così, per iniziare a entrare un po' con la mentalità della puntata. E volevo chiedervi risposte secche. In questo momento il lavoro che offrite, quindi i vostri servizi, le vostre illustrazioni, grafiche, qualsiasi cosa, ha il valore che vorreste? Che domanda buona. È la domanda che abbiamo fatto anche sul gruppo, il gruppo Facebook che citavo prima. No. No. No, ok. Per me è me. Per me è me. Ok. Per me è me. Ci stai lavorando, diciamo. Sì. Ok. Però ti senti vicina. Cioè, ovviamente, io poi faccio sia illustrazioni sia fumetti, no? Sì. E sono due cose molto diverse. Certo. E però allo stesso tempo te lo devi dare anche tu il valore, no? Certo. Cioè a me mi è capitato proprio recentemente di rifiutare di fare delle illustrazioni perché secondo me mi pagate troppo poco e poi per fortuna sono arrivate altre cose e pagate meglio. Non tantissimo meglio, però meglio, ovviamente. E quindi c'è il valore tra le dature. Se tu accetti sempre di lavorare per 100 euro o per una città. Sono assolutamente d'accordo. Con cui non riesci a lavorare, sei tu che allora... Sì, 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 assolutamente. Gli autodetermini il valore che poi gli altri tenderanno sempre a darti. Assolutamente, certo. Perché accetterai sempre quella tipologia di roba lì, accetterai a trascico quelle cose lì e quindi automaticamente il karma... Io ci credo al karma. Quindi se tendi ad accettare quel lavoro di quel valore lì e quindi automaticamente tu ti dai quel valore lì... Cosa ti può arrivare dopo? Cosa ti può arrivare dopo? Solo altre cose molto simili, certo. Certo, cioè se tu capisci quanto vali e questo sta molto al singolo, no? Quindi si include nel singolo anche tutta la psicologia, il vissuto, i traumi, tutto, no? Sì, sì, il contesto sociale in cui hai vissuto, i tuoi esempi, cioè molte volte magari semplicemente siamo indietro perché non abbiamo avuto l'esempio familiare o qualcuno vicino che ci ha un po' illuminato sulla strada quindi dobbiamo fare un po' tutto da soli ed è la prima volta e quindi magari ci si sente spiazzati. Però per dirti, a volte pure nelle scuole si destabilizzano le persone. Io ho fatto una consulenza con una ragazza molto brava, con ampi margini di miglioramento che però mi diceva io con te ho ripreso fiducia in me stessa perché ero completamente atterrita da professori che avevano paura magari che gli allievi gli rubassero il lavù. E adesso alla formazione ci arriviamo perché è un tasto molto 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 dolente. E quindi facendo così le persone si le stabilizzano e quindi è ovvio che per insicurezza rovinano il mercato. Cioè l'insicurezza è la prima rovina di qualunque cosa. Eh lo so, lo so, lo so. E Marco invece secondo te, riferendomi all'esempio che ha detto adesso Cri del rifiutare un lavoro e aspettare che arrivi uno migliore. Se tu dovessi scegliere tra un lavoro subito pagato un po' meno o è un lavoro meglio pagato ma che arriva dopo un po' di tempo, cosa sceglieresti a oggi? Guarda, il discorso è che secondo me è tutto molto relativo. Nel senso che anch'io tendo a fare lo stesso ragionamento che fa Cristina. Per cui dico, anche se devo, ho registrato diciamo no, una tendenza al ribasso. Ormai nel senso è abbastanza chiaro per quanto riguarda il mio mestiere. Io vedo che, non lo so, una roba che mi veniva pagata 1.500 euro adesso me ne propongono esattamente la metà e quindi nel senso poi per carità fai due conti e dici ok esattamente la metà ancora diciamo per un disegno di una certa complessità possono ancora andare bene e così va bene. Certo quando invece le proposte sono veramente tipo a cifre ridicole, lì a meno che non sei tipo alla canna del gas e se non entra quello non mangi e tendi ovviamente a rifiutare. Però vedi secondo me appunto è tutto molto relativo. Nel senso che banalmente se adesso una persona entra nel mercato e non ha un'esperienza progressa io ti parlo di quando, anche di dieci anni fa, quando hai iniziato tipo a lavorare e magari i 750 euro sono il sogno del sogno e dici wow! Sì sì i miei primi 1.000 euro mi sono sentita ricchissima, tipo wow 1.000 euro! Suonava tipo wow! Se poi però consideri l'effettivo valore che ha, non parlo di conteggio alle ore di lavoro che stai impiegando per fare il valore strategico che ha, il tuo lavoro per quel determinato brand. Dici ok ma io qui comunque no? Che poi è quello su cui cerco di battere diciamo di più. Cioè noi siamo una nuova forma di schiavitù creativa fondamentalmente, e lo stiamo diventando sempre di più. Quest'industria che si basa sul talent lo sfrutta e lo alimenta finché il talent non prende consapevolezza di quello che è effettivamente il suo contributo a quell'industria lì. Nel momento in cui il talent diventa abbastanza sgamato e si accorge che effettivamente sì ok, quei soldi lì sono soldi, vanno bene, però comunque non sono un compenso diciamo adeguato per il suo contributo, l'industria è tranquillamente, ma scegli un altro tipo più giovane. Sì però è fisiologico, cioè forse quel passaggio di insicurezza e di non sapere esattamente davvero quanto valiamo, forse è fisiologico, cioè nel senso a me adesso sembra chiaro, limpido, lampante che è così, però mi rendo conto che se ti sei appena laureato è difficile. Io non sono mai stato la persona che ha colpevolizzato, che all'inizio faceva degli errori appunto, accettava magari i cifre bassissimi, io stesso ho sempre raccontato, io facevo i flyer per 50 euro, le prime illustrazioni le ho fatte veramente per quattro soldi, le ho fatte anche gratis. Cioè il mio primissimo libro, non ve lo dico, regalato, sotto i 1000 euro, ti dico solo sotto i 1000 euro. Non si dicono parolacce. Nel senso, ma tuttora no, voglio dire, ci sono piccoli editori che ti offrono anche i 500 euro per una storia o per un libro, non mi scandalizza nemmeno. Il discorso è che uno, su questa roba mi criticheranno tutti, però se è vero che... non lo so se è vero che... No, no, se è vero un cazzo. Diciamo che in generale secondo me, nel senso... La questione del prezzo, no? Adesso tu parlavi del fatto che per esempio non viene... non ci sono, diciamo, dei prezzari, degli standard, diciamo, per tutti. E qui per esempio non sento... Sì, io non sento la mancanza di quello, per esempio, no? Ma io sai perché ti dicevo questa cosa? Perché... Ragazzi, scusate, mi prendo un attimo una felpa. Ah, fa freddo anche da te. Vabbè, per chi vedrà questo video in futuro è ottobre. Mi sta da tremare. No, da me fa pescissimo, veramente. È un po' da nonna, però. È calda. Sto invidiando tantissimo, per l'altro. Io ho messo, infatti, la cuffietta proprio perché volevo stare un attimo. No, ma sento pure io freddo, effettivamente. No, dicevo, questa cosa dell'avere il preziario, cioè, nel senso, anche a me sembra una... cioè, nel senso, è molto limitato, cioè, non può inserire dentro a una tabella il contesto e tutte le variabili che possono nascere, includere, cioè, nel senso, sì, prevedere tutte le variabili possibili. Quindi quello è difficile, però è anche vero che una persona che si laurea e immediatamente metti, come sta succedendo ultimamente, decide di fare il freelance, non ha gli strumenti, cioè, non sa dove girarsi, non sa veramente che prezzi di riferimento prendere, perché... Ma questo sai perché succede? Perché nemmeno i nostri docenti lo sanno. Eh, lo so. Perché nemmeno... cioè, nel senso, il discorso del prezzo è un tabù, sai perché? Perché nessuno applica un ragionamento, tipo, universale ad ogni... Certo, è vero. Ad ogni cosa, cioè, ad ogni progetto che affronta, ad ogni progetto che... Però non ti insegnano neanche il metodo, cioè, nel senso, neanche il concetto di profitto ti insegnano. Cioè, al di là di darti un'indicazione di prezzo, non ti dicono neanche quello. Perché non c'è. Perché tanto nelle università, fino a poco tempo fa, e tuttora, nel senso, chi viene, tipo, ad insegnarti? Viene ad insegnarti, solo intanto in rarissimi casi, qualcuno che, oltre ad essere un bravo progettista, è stato anche un grande imprenditore della creatività. E quindi è uscito a fare un sistema affinché si potesse guadagnare sulla creatività. Tutti gli altri sono brevissimi progettisti, cioè, risolvono problemi di comunicazione, di prodotto, di quello che cavolo è. Ma hanno tutti, invece, quel handicap lì. E non è un caso se poi, nel senso, non riescono a trasmetterti quell'aspetto lì. Non è nemmeno un tabù. Cioè, nel senso, non è voglia di nasconderti un segreto professionale che potrebbe, tipo, in qualche maniera minacciare, che ne so, il resto della mia carriera perché ti ho svelato, tipo, un segreto. Svelabile. No, no, è proprio che non c'è un segreto. Cioè, nel senso che, come te, loro... Però, sì, ok, no, questa cosa, sono d'accordo, però dai, un po' di responsabilità ce l'hanno, nel senso che, nel momento in cui stai formando un professionista, che può diventare anche imprenditore creativo, come dici tu, perché è quella, effettivamente, la parola chiave, perché non dargli anche degli strumenti fondamentali. Ma questo, secondo me, è un po' a prescindere. Manca proprio il concetto economico. Cioè, sembra che sempre sia, non lo so, non affrontato in qualche modo. Cioè, guarda, per me spoglie una porta aperta, nel senso, per me, in un'università del design, della creatività, di quello che cavolo è, devi comunque inserire un minimo, diciamo, di... un corso che ti insegni un attimino anche a gestire le finanze, a pensare, tipo, a sviluppare, tipo, la tua attività da una fase di start-up ad una fase, tipo, no, magari più sviluppata. Sì, anche perché è molto probabile che accadrà. Cri, alza la mano Cri. No, volevo dire che io prima ho visto proprio un'altra live che si trova su YouTube, una live dall'inchiesta alla pratica, associazioni di immagini, Mefu e Redacta, che praticamente dicevano proprio le stesse cose che stiamo dicendo noi. Ah, beh, a posto, allora. Dicevano, eh, nelle scuole di fumetti, i fumettisti purtroppo sono degli scappati di casa che artistoidi, che di tutte le questioni fiscali, finanziarie, eccetera, non gliene frega niente, non sanno niente, non gliene frega niente, e quindi poi, pur di fare la loro opera così, accettano cose assurde, eccetera. Però, alla base, c'è quello che ha detto, si deve insegnare, si dovrebbe insegnare, al di là della fiscalità, ok, che sono cose che, se hai Google, riesci ad arrivarci a capire. Se sei, cioè, ragazzi, noi siamo cresciuti, siamo una generazione degli anni Ottanta, a noi nessuno ci ha insegnato nulla, siamo arrivati dove siamo arrivati, scappati, perché abbiamo capito che digitando con le dittime su Google riuscivamo ad arrivare a magari qualche informazione in più di quelle che ci arrivavano dal contesto reale, ok? Quindi per noi il web è stata una risorsa e continua ad esserlo, tanto è vero che io, Marco, tu sei su Twitch, siamo su YouTube, cioè, e continua ad essere una risorsa. Quindi lo switch è mentale ed imprenditoriale e quindi utilizzare gli strumenti della contemporaneità per un approccio imprenditoriale al lavoro creativo. E, insomma, Ari, probabilmente ci avrebbe odiato tutti sparati, vabbè, tanto, mo, pace all'anima su, però saremmo stati, capito? Perché io poi sono fumettista, però di base sono una designer come, cioè, nel campo del fumetto, ok? Certo, progetti, non è semplicemente disegnare, basta, non finisce lì. Però io ho una mentalità, mi accorgo di avere una mentalità molto diversa da tanti miei colleghi. Ma io non posso entrare nella testa delle persone, Io, per quanto mi riguarda, ho una mentalità del genere, vado avanti e faccio le mie cose, eccetera. Però, secondo me, è importante fare cose anche come questa, appunto, anche qua, semplicemente su Twitch e su YouTube, per diffondere un po' quella che è la responsabilità progettuale. Perché nel momento in cui il ragazzo, il freelance junior, il trentenne che sta facendo lo switch da dipendente a indipendente, si deve prendere dei riferimenti. Cosa fa? La prima cosa che guarda è, ok, guardiamo il mercato, ma se il mercato è fatto da persone, come diceva Cree, che non hanno la mentalità imprenditoriale, svendono, regalano, eccetera, eccetera, è ovvio che è un mercato un po' malato, non puoi prendere davvero quello come riferimento. Però è l'unica cosa a cui puoi davvero attingere, cioè inizi a chiedere in giro i prezzi e ti confondi tanto, cioè è difficile, non so come dire, e se manca questa mentalità qui e manca un po' quella consapevolezza, e traduci i dati che ti dà il mercato in dati bassi, anche perché in che punto del valore economico ti posizioni tu di tuo? Cioè puoi vedere tante fasce di prezzo, ma questo per qualsiasi servizio creativo, no? Quindi ti posizioni, decidi di stare esattamente in questo punto della scalata economica e poi piano piano provi a risalire dal punto in cui hai deciso di iniziare. Ti poni un obiettivo e pensi che quello sia l'obiettivo massimo, arrivi lì e scopri che poi in realtà magari c'è un'altra vetta da raggiungere, no? Però il punto di partenza, il punto iniziale in cui tu inizi a darti un valore è condizionato dal mercato, è condizionato da quello che vedi in giro e dalla tua consapevolezza, perché se non hai un esempio, se non sei figlio d'arte, se non hai dei riferimenti, è difficile forse, o no? Cosa ne pensate? Si possono dire le parolacce? Giusto per sapere quali sono concessi? Non si può bestemmiare, mi pare. No, no, senza scomodare i santi. I santi no, però forse le parolacce... Parolacce forse sì. Sì, parolacce sì. Vabbè, comunque nel senso sì, è estremamente difficile, credo lo sì, per me lo è tuttora comunque, nel senso che... Come dire, all'inizio io sono stato agevolato forse, perché ho avuto un po' la faccia tosta di chiedere alle persone che erano più esperte di me e ho avuto anche la fortuna di trovare poi delle risposte, cioè di trovare delle persone che mi hanno dato delle risposte che secondo me sono tuttora abbastanza valide, no? Per cui quando io dicevo, ah sì, vorrei vendere tipo questo, vorrei vendere questo servizio per 100 euro, lo faccio, ah no, questa roba vale almeno tipo 10 volte, no? E un pochino, diciamo, quell'attività di mentorship che ho ricevuto mi ha un po' messo sulla diritta via, no? Che poi è quello che cerco di fare, tipo, più privatamente con le persone che mi contattano e un pochino più at large, tipo sul mio canale YouTube, no? Certo. Però comunque tuttora io faccio fatica tutte le volte, cioè non... Davanti ad un preventivo sono sempre lì che mi faccio tipo che... Per me un preventivo è un giorno di lavoro che spreco tipo a fare dei conti. Assolutamente, assolutamente. Ma un giorno intero, otto ore, capito? Tant'è che sto anche pensando che la prossima volta che mi chiedono un preventivo almeno mi dovrei anche iniziare a far pagare. Il tizio a cui ho portato la stampante mi ha chiesto 15 euro per fare il preventivo della riparazione della stampante. Sì, potrebbe essere anche questo un ottimo esempio da seguire. Però lì è l'esperienza che poi ti fa rendere anche consapevole dell'altro fattore che è quello del tempo e anche il tempo ha la sua variabile e rientra in tutto questo giochino economico. E quindi devi capire effettivamente quali sono i tempi morti progettuali o come diceva Cree banalmente se accetti un lavoro per poco non solo magari ti stai precludendo la possibilità di prenderne uno meglio pagato ma nel frattempo forse stai anche sprecando tempo perché potresti ottimizzare quel tempo lì per... Vai Cree! Io alzo la mano così credi No, allora per me, come accorgerti che è giunto il momento di rifiutare i compensi bassissimi e dire no alle cose gratis Quando hai accettato di fare la cosa gratis o con un compenso di merda che ti fa stare triste e arrabbiato e disegni con la gastrite lì forse ti accorgi e ti rendi conto che cioè se è una cosa che ti fa stare male fisicamente non auto mettertici dentro quella situazione e bisogna imparare a dire più no e a dire vabbè se questa persona non accetta le mie condizioni il mio compenso quanto io penso che valgo in questo mercato eccetera 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 che poi il mercato purtroppo come i nostri lavori sono anche molto a meno che non sei in un co-working o in uno studio sono molto solitari quindi il fatto di non avere un confronto se non scrivendo risultando pure magari io all'inizio ero veramente timida cioè faccia torta per certe cose ma estremamente timida cioè proprio testa bassa no no figurati se mi metto a scrivere cioè adesso ho capito anche che l'altra persona è una persona come me quindi con le parole giuste riesci sempre ad approcciarti cioè non scrivendo quella tipo che non ho mai visto cioè no quindi anche impari anche un'altra cosa e cioè il modo di approcciarti e scrivere a una persona che non hai mai visto online cioè anche lo sforzo di pensare alle parole da usare anche quello poi forse sì, questo è anche interessante nel momento in cui intercettiamo e abbiamo noi un approccio collaborativo con i nostri colleghi più che competitivo perché quello poi ci mette forse cioè anche quello vizia un pochettino il sistema credo, non lo so io per esempio sentivo io soffro molto la competizione cioè proprio la soffro in una maniera in che senso? la soffro cioè quando mi accorgo che gli altri mettono in una maniera in che senso? la soffro come ce lo devo dire? no vabbè lo spiego allora mentre io sono una che non cioè si dà molto ok? e ho imparato anche a farsi ho imparato a farmi pagare anche per il mio darmi molto a un certo punto ho detto vabbè sai che però questa cosa rientra in una consulenza magari ora mi faccio pagare ok? perché si consigli via messaggio via facebook uno due tre al quarto ti dico senti sganciami cioè non è possibile no? sì sì ho imparato anche questo cioè perché poi non ho più trent'anni ventinove ventotto ma ne ho cioè inizio no? ma te ne hai inizio ad andare sul versante no? quindi delle cose le ho imparate per impararle stiamo scollinando esatto per impararle ho pagato dei soldi io di tasca mia e quindi è bene che per tramandare queste cose mi faccia ripagare a mia volta quindi sono tutte cose che io dico ai corsi quando mi pagano per fare i corsi agli studenti appunto che pagano altre entità che poi pagano mi sono ritrovata adesso in questa cosa che hai detto perché effettivamente a un certo punto ti accorgi che dici ehi ma aspetta forse i consigli sono consulente forse però anche quello effettivamente dici aspetta un attimo quanto tempo ci sto mettendo a dare questi consigli consigli troppo specifici diventano qualche altra cosa no no chiaro no però che stavo dicendo c'è una cosa a costo e vabbè no la solitudine la competizione la collaborazione ecco la competizione la soffro ecco per arrivare alla competizione io sono una che si dà molto e quando noto che invece gli altri mettono in atto dei meccanismi verso di me perché hanno si mettono in competizione no quindi mi fanno magari non ti dico questa cosa ovviamente sono nelle nostre teste però si evince ah non ti dico questa cosa perché magari tu fai questo quindi competizione io invece sbrago proprio cioè non mi importa niente perché appunto credendo nel karma cosa succede credo anche che tu di tuo ci devi mettere sempre il buono il positivo e devi sempre stare in un atteggiamento non competitivo e di 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 fiducia o se ti ritorna indietro il cagone oppure io poi uso oppure una persona sceglie un'altra persona che capito vuol dire che non era destino cioè io sono anche molto fatalista capito vabbè tutto questo ti fa guadagnare di più in ogni caso tutto questo processo di metabolizzazione di karma sì 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 perché alla fine vogliamo stare anche bene il salute che è la cosa principale esatto quindi sì sì ma invece leggendo uno degli ultimi articoli che che hai postato tu Cri sul tuo blog e poi hai fatto mi sembra anche il video su youtube c'era un concetto che mi è piaciuto molto che faceva riferimento al fatto che ci prendiamo anche un pochettino in giro cioè siamo già talmente fortunati a fare un lavoro che ci piace che ci vogliamo pure far pagare bene cioè sembra troppa roba sembra che pretendiamo troppo che vogliamo delle cose troppo esagerate sì sì e mi è piaciuto molto questo concetto del questo eterna sindrome dell'impostore no questa eterna sindrome dell'impostore che che fa sì che poi non viviamo bene cioè stiamo sempre schiattati in corpo e no cioè è quello quindi quello io lo noto quello che ho scritto lo noto moltissimo comunque ancora nei giovani no che ringraziano e sembra che non hanno ben capito che fanno parte di un ingranaggio di un meccanismo capitalista diciamo cioè è così senza disprezzare il capitalismo però siamo parte di un ingranaggio gigante ma disprezziamolo pure il capitalismo e quindi facciamo parte di un meccanismo molto più grande di noi e il fatto che ti pubblichino un libro un'illustrazione eccetera non è che tu devi ringraziare perché ti pagano pure per fare qualcosa che ti piace no è comunque un servizio e poi a maggior ragione se tu illustratore o fumettista hai attualmente molti follower il tuo valore purtroppo per fortuna sale cioè siamo in una società appunto capitalista eccetera che ha reso le persone con un grosso seguito online di più alto valore ok e ho detto purtroppo per fortuna quindi scegliete voi scegliete voi scegliete voi da che parte stare hai capito perché io non mi sento di giudicare niente e nessuno però le cose stanno così cioè rendiamocene conto no no sì certo assolutamente anche lì poi uno sceglie se giocare quella partita oppure no esatto esatto la volevo proprio volevo arrivare a questo punto assolutamente perché anche una persona che dice ma non è follower non valgo niente cosa che è successa anche a me quindi vedi come mi do mi spendo e ti dico io l'ho pensato a un certo punto dopo quattro libri mi sono ritrovata a pensare oddio non valgo niente no per piacere no se ce lo chiedi per piacere va bene mi sono tirata per i capelli da questo buco nero dove stavo cadendo eh vabbè però quello è il tranello dei social cioè è facile cascarci e lo dico qui a proprio a imperitura memoria no cioè il nostro valore non sono i follower per piacere qui lo dico e qui lo ok lo deposito perché se no ci facciamo del male cioè ci facciamo veramente veramente del male e Marcos tu riprendendo quello che diceva Cree invece dal punto di vista della della collaborazione o della competizione hai detto prima che sei partito appoggiandoti un sacco a degli esempi e faccia tosta di chiedere e secondo me quello non è un caso ma nel senso era già non so una tua convinzione di voler arrivare volercela fare in qualche modo ed è giusto avere secondo me questa questa grinta nell'affrontare nell'affrontare i progetti io dovevo semplicemente tipo colmare un gap gigantesco no perché quando io ho deciso di fare l'illustratore ho semplicemente deciso di provarlo e non avevo come dire cioè non avevo una formazione d'illustratore mentre altre persone erano state più avvantaggiate perché erano riuscite diciamo a a trovare questa loro vocazione molto prima di me e quindi magari ad aver iniziato ad aver intrapreso un percorso no nel mondo dell'illustrazione proprio a livello accademico non lo so comunque averla già studiata tipo durante l'università io questa roba qui l'ho scoperta alla fine per cui dovevo in qualche maniera colmare quel gap e questo mi ha spinto tantissimo no perché mi rendo conto che stavo per già tipo per me capire cioè il giorno in cui ho scoperto che potevo vivere di disegno nel senso che stava un giorno bellissimo detto ah ecco questo ecco come si chiama la cosa che voglio fare era grande e da quel momento in poi poi è stato tutto uno scoprire lì appunto come ti dicevo la fortuna di avere delle persone che in qualche maniera anche in maniera inconsapevole sono state tipo mie mentori mie mentori sì sì nel senso non diciamo non è stata una cosa da poco poi il discorso è stato che effettivamente i consigli hanno sortito effettivamente i loro effetti perché io li ho applicati fin da subito e questa è una cosa che invece e questo è un consiglio per chi sta iniziando e si dovrebbe essere forse anche più intransigenti no su che aspetti da ragazzi sui pagamenti no ah certo se una persona più anziana ti dice osa oppure chiedi di più e sei un 20 anni 25 anni che non ha figli affitti mutui sulle spalle cazzo fallo perché stai gettando le basi in quel momento e non hai un cazzo da perdere è vero che cos'hai da perdere nel senso l'affitto della cameretta è stato certo no no è vero e poi sì come dicevo prima almeno parti da un punto un po' pochettino già più in avanti no è già tutto in salita almeno ti posizioni un po' bene tanto il punto di partenza lo dici di tu nessuno ti posiziona sei tu che ti posizioni in una certa fascia di mercato chiamiamola così io un po' ho avuto quella fortuna lì nel senso che un po' chiedevo consiglio un po' avevo capito come dovevo muovermi un po' basandomi su delle leggende antichissime che dicevano che per una recopertina di Harmony ci sono stati autori che si sono comprati le macchine delle cose di lettura anni 70 80 ho detto cazzo ma forse possiamo chiedere tipo qualcosa in più e ho iniziato a fare in questa maniera poi a proposito di mercato era il mercato stesso che mi confermava quelle robe lì capito perché quando io ho iniziato a lavorare banalmente a parte il fatto che veramente io noto che adesso c'è stata una decurtazione pari al 50% di quelli che erano i compensi nel mondo dell'editoria nel mondo dell'advertising io inizialmente l'ho frequentato sempre poco ho iniziato diciamo a bazzicarlo più di recentemente sì no l'editoria è cronolato comunque l'editoria quella da edicola dai periodici pagava anche molto bene e io sono sempre stato tipo cioè da lì ho iniziato a ricevere delle conferme ho detto ah cazzo allora sì se io chiedo mille e loro magari mi danno mille o in certi casi anche di più allora forse mille è il mio valore no adesso dico una cifra a caso senza sì 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 fa anche dire mille denari mille monetine esatto per non dare adesso riferimenti però secondo me è molto bello quello che dici e che lanciavi anche tu come ragionamento nel tuo video che c'è sul tuo canale del fatto che se c'è nel senso come di spronare soprattutto quelli giovani dire ok volete venire dove sono io giochiamo a darmi pari fate i prezzi giusti non facciamo che giocate semplicemente regalando e svendendo quello che fate cioè voglio degli avversari voglio dei competitor con cui giocare come posso dire lealmente o comunque con la qualità con un buon lavoro sì quello sarebbe il mondo ideale eh lo so però secondo me se compete semplicemente sul brief creativo e non sul preventivo è una situazione che probabilmente non si realizzerà mai nel senso perché comunque no dai raga c'è nel senso abbastanza un'utopia dici non so a me piaceva come idea ci volevo credere guarda nel senso uno si può anche battere secondo me ed è giusto che lo faccia e io continuo tipo cerco di farlo per carità e cerco di comportarmi come credo sia giusto perché comunque alla fine credo che una persona debba guardarsi tipo al mattino tipo davanti allo specchio e non sentire tipo il desiderio rifrenabile di sputarsi in faccia no? cioè devo riuscire e a convivere tipo con quello che mi ritrovo davanti no? per cui ognuno secondo quella che è la sua sensibilità cerca comunque di portare avanti un ragionamento con se stesso e con gli altri però poi i casi della vita sono diversi per cui ci può stare che qualcuno non la pensi come noi per cui vabbè il mondo è quello che è e niente no il discorso è che secondo me in questo momento facendo questa digressione comunque aiutatemi perché non so di cosa stava utopendo vabbè hai detto che era utopia poi io ho detto no ma dai no magari no e poi e poi si è aperta la digressione sì no a me piace come concetto secondo me cioè rispetto a quello che dicevamo prima anche la responsabilità progettuale e non so la qualità siamo imprenditori creativi dobbiamo anche avere non lo so una sorta posso chiamarla etica se non offrendo nessuno però cioè il lavoro fatto bene passa anche da questo passa anche dalla giusta valutazione economica passa anche dal non superare il concorrente perché invece che farti pagare ti fa regalare un paio di scarpe cioè non lo so no penso che questo siano azioni che rovinano il mercato rovinano creano dei precedenti antipatici e non fanno bene a nessuno a te perché non stai seminando niente per il tuo futuro perché una volta che svendi il tuo prodotto continuerai a svenderlo dopo come fai a passare nel momento successivo a non so a farlo pagare tanto è impossibile quindi ti stai dando la zappa sui piedi tu da solo e in più stai rovinando il mercato agli altri sì sì tanto purtroppo è così però comunque mai io ho una visione abbastanza pessimistica di questo l'ho capito sì perché vedo che cioè se ne parla però tanto la gente ragiona sempre nella stessa maniera perché d'altronde diciamo che no è veramente è veramente una situazione un po' triste no? ma non perché non critico gli altri perché nessuno immagina che abbia deciso ok voglio voglio non lo so ridurmi tipo a fare dei prezzi bassissimi perché sono un coglione no? perché purtroppo non riesce tipo a lavorare in maniera diversa eh cioè per chi vuoi o non vuoi nel senso non è così scontato che una persona che abbia delle abilità creative magari sia anche una persona che è in grado tipo di gestire l'aspetto diciamo di accounting di 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 sì di creazione no? di strutturazione di un prezzo per un servizio ma poi dici che quello che stiamo facendo adesso è tutto inutile non stiamo ispirando delle metti in giro sì no ma sicuramente ma guarda se non se non ci credessi ok non avrebbe senso che avesse aperto il canale no? però questo non esclude il fatto che comunque sono abbastanza estremamente cosciente del del periodo storico in cui ci ritroviamo e come le cose vanno capito nella realtà poi sono un idealista e cerco magari di di continuare no? perché vedi io penso no? che ognuno debba comunque restituire qualcosa al contesto alla società in cui vive no? per cui ognuno lo fa in una certa maniera è il pegno no? che devi che quella dose di karma è lo scarmamento no? come dicono io mia moglie è buddista per cui nel senso di karma ne ho sentito parlare tipo a schifo negli ultimi anni poi ci metto pure io sì cioè che poi non è che devi essere buddista nel senso è una legge fisica nel senso che ad ogni azione ne corrisponde una uguale e contraria no? per cui voglio dire se semino merda probabilmente su quella merda ci inciamperò prima o poi e stessa roba se semino fiorellini e dopo un po' potrò godere un pochino di quello che ho seminato certo e quindi uno continua a farlo perché comunque è sempre meglio prodigarsi per questo assolutamente però la situa è veramente tristanzuola quindi dobbiamo considerare che il commento che ci è arrivato più numeroso e più copioso cioè il cliente vuole sempre il prezzo più basso è la triste realtà dei fatti sì perché non gliene frega un cazzo cioè raga la tristezza di questo discorso qui sai qual è che se prima come dire se prima avere un logo era o un'illustrazione o una roba ben impaginata o un sito internet era un lusso adesso è una cosa scontata che deve avere per forza sì un logo ce l'ha il macellaio sotto caso ce l'ha l'associazione di calcetto capito che quando diventa un bene tipo di tutti i giorni no cioè quando diventa tipo come il pane la cosa sì che ci deve essere per forza per cui non deve superare l'euro non c'è un cazzo da fare poi noi stessi stiamo contribuendo e questo io mi interrogo sempre quanto senso abbia comunque continuare diciamo ad insegnare a sfornare perché tanto qui tutti facciamo delle esecenze a sfornare professionisti allora almeno quello che dobbiamo fare è sfornare dei professionisti che siano delle persone corrette nel senso che abbiano tipo la testa sulle spalle perché quella è l'unica cosa diciamo che ci permetterà di arginare questa roba ma comunque ogni anno sforniamo nuove persone che si uniscono a quel mare magnum di persone che fanno il nostro mestiere e lo so che il mercato lo facciamo noi e mi piacerebbe veramente che riuscissimo veramente a farlo noi però io mi sto sempre di meno cioè mi sto sempre convincendo più del contrario e invece ti dirò una cosa che contraddice questa cosa qua a me negli ultimi anni non mi hanno più chiesto sconti cioè negli ultimi anni i miei i miei clienti scelgono come posso dire magari di più l'idea magari non tanto l'artwork in sé quindi più magari il concetto di essere appoggiati da da qualcuno che che pensa da qualcuno che gli aiuta a mettere in ordine un po' la strategia e che poi fa anche artwork vabbè non li faccio tutti io anche col team ovviamente di Pangramma a me è capitata questa cosa qui cioè nel senso penso di aver seminato abbastanza bene adesso magari mi sto tirando una sfiga addosso paurosa ma quello che è successo è che non mi hanno più chiesto sconti certi tipi di clienti il cliente abituato all'agenzia il cliente del grande gruppo eccetera si continuano a farlo il il cliente che io chiamo consapevole sceglie di affidarsi almeno questo è quello che ho intercettato io quindi stiamo parlando magari di persone che hanno bisogno di lanciare o rilanciare il proprio brand e in quel caso lì si affidano e scatta il match e non c'è questa guerra sul prezzo ecco mi sembra che ci possa essere la strada per andare in quella direzione e lavorare con qualità ma secondo me sì ma sicuramente nel senso che se non se non credessi che tutto è perduto nel senso cioè se credessi che tutto è perduto probabilmente non farei nemmeno più in questo lavoro certo e ci sono delle tipologie di cliente ma ci sono anche delle tipologie di cliente nel senso quando tu lavori con una grandissima agenzia per un lavoro di advertising lì c'è una persona anzi c'è un reparto di persone che sono lì per abbassare il prezzo perché il loro mistero è abbassare il prezzo sì 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 esatto certo punto tu lo sai spari sì sì stai al gioco certo sai che devi stare al gioco e ok assolutamente punto ti posso dire pure un'altra roba io invece nel mondo dell'editoria tutte le volte che mi chiedono mi propongono una cifra chiedo sempre di aumentarla del 10 o 15% ok punto fisso poi delle volte ci riesco e delle volte non ci riesco e anche questa è un'ottima strategia e vediamo faccio questa domanda scomoda voi come vi siete tarati per trovare non voglio sapere i prezzi ma voglio sapere più che altro il vostro metodo cioè c'è la famosa discussione del tempo quindi conto le ore conto un forfettario conto quanto vale quel servizio per quell'azienda quel brand ho una mia fee personale che metto perché sono un artista riconosciuto un progettista riconosciuto eccetera eccetera come calcolate ad esempio il profitto che è una cosa che per me è quello è è il punto d'arrivo che auguro a tutti cioè arrivare a dire ok questo è il mio profitto come siete messi? Cristina vuoi andare tu o vado io? no vai tu no io in realtà nel senso giusto per far finire con il discorso di prima io ho capito che più o meno il mio lavoro poteva valere tot e ho iniziato tipo a mantenere quel tot poi le cose sono sempre di più aumentate e semplicemente non mi andava bene prendere meno ok e per cui ad un certo punto io per esempio non ho mai voluto impostare il discorso del del lavoro orario tant'è che all'epoca quando quando prima che esplodesse tipo il boom delle infografiche veramente eravamo in quattro pilla a farle arrivavano veramente tantissime proposte di lavoro tipo in quel senso lì e io non ero nemmeno tra i più bravi anzi ero uno di quelli che faceva proprio male perché c'era gente laureata in infografiche tipo io invece le facevo semplicemente perché le facevo all'interno del magazine però avevo visibilità e quindi la gente mi richiedeva e c'era una grandissima compagnia che sforna tuttora balanghe di infografiche di cui adesso non ricordo il nome però è veramente gigantesca che prende appalti tipo da parte di Google e da altre big company tipo del di quel settore lì che voleva tipo mi aveva fatto una proposta e voleva tipo che io lavorassi tipo a fascia oraria probabilmente mi sarei anche sistemato tipo però voglio dire mi ha sempre dato fastidio tipo questa roba di considerare il mio lavoro come semplicemente un lavoro di mano d'opera no? anche perché poi lì per me non ha senso proprio nel senso voglio dire non sto facendo un'azione ripetuta e continuo nel tempo per cui è quello nel senso ogni progetto è una sfida nuova che richiede energie tempi differenti assolutamente e che sforzi quindi differenti per cui va quotato secondo me sulla base di quello che è il mio sforzo e il tuo torna conto da quello che io sto producendo molto semplicemente e poi c'è quell'effetto come posso dire scontato ma è così se ci metto poco magari perché ho imparato a farlo in poco tempo no? quindi c'è anche quell'aspetto per cui magari ho studiato mi sono esercitato e velocemente arrivo alla soluzione ma non vuol dire che non sia una soluzione ma scelta da quello non me ne strafotte proprio un cazzo nel senso io posso anche non aver studiato però voglio dire ad un certo punto no? questo è abbiamo voluto il libero mercato siamo felici del libero mercato cioè io decido che nel senso voglio essere pagato mille è quello sei liberissimo di andare da qualcun altro se mille non ti va bene ah no no sono d'accordo per cui nel senso non te lo devo nemmeno giustificare no? fortunatamente questa roba mi sono trovato davanti pochissime volte no? a dover fare questo discorso perché sono riuscito fin da subito tipo a trovare una tipologia di cliente che non fosse tipo la piccola impresa o il privato ok ci ho lavorato veramente pochissimo e con questa tipologia di cosa adesso le sto riscoprendo le piccole imprese perché mi danno più perché è quella tipologia di cliente che riesce a far crescere come vuoi tu era quello di cui ti parlavo io prima e che si fida sì esatto ma perché adesso semplicemente ho bisogno di una tipologia di progetto che mi restituisca qualcosa in più e mi sono rotto il cazzo di fare l'ennesima illustrazione che parla di un argomento che per carità se c'è ben venga la faccio però di un argomento che non frega proprio niente sì sì certo che fai fatica magari a sentire tu o a interpretare sì magari è interessantissimo però non è quello su cui sono focalizzato in quel momento chiaro certo e e quindi nel senso come dire inizialmente mi è andata bene poi ho iniziato è stato un processo molto lungo nel senso che con gli anni ho visto che avevo un incremento che era abbastanza grosso nel fatturato ogni anno per cui sono arrivato che ne so a guadagnare tipo zero il primo anno perché semplicemente cioè guadagnare 10 il primo anno e l'anno successivo guadagnavo 40 l'anno successivo avevo raddoppiato e è la curva di crescita del fatturato era alta per cui ad un certo punto ho detto ok forse è il caso di capire che cazzerò la cioè come come gestire questa roba qui nel senso ho iniziato a darmi dei goal ok e inizialmente avevo annuali e dicevo ok sta curva diciamo non si deve appiattire deve comunque rimanere una curva certo e in qualche maniera nel senso comunque cercavo di evitare tipo lo stallo non che mi sarebbe non mi ha mai fatto schifo cioè nel senso anzi ci avrei pure messo la firma a sapere magari che avrei guadagnato quella cifra da qui a 30-40 anni però comunque sono sai sei giovane e dici spingiamo un attimino vediamo anche solo per capire fino a che punto posso arrivare certo qual è il tuo potenziale e quindi nel senso è andata così ad un certo punto ho iniziato a dire va benissimo riesco a fare entrare questi soldi quindi cosa vuol dire perché io inizialmente avevo delle entrate molto sbilanciate no cioè tipo che ne so un mese fattori 20.000 euro il mese successivo ne fattori 1000 ok o per due mesi ne fattori 1000 e poi il terzo mese fattori di nuovo tanto e poi non è detto e ad un certo punto ho iniziato a cercare di capire ok allora come facciamo tipo invece ad avere un'entrata fissa io ho detto vabbè mi metto dei goal mensili ok e ho iniziato a capire che ne so ogni mese dovevo guadagnare 10 ah ok e lo stai ancora rispettando questo questo goal i goal mensili sì sì è quello su cui si basa ok tutto quello che facciamo perché fai questo discorso qui perché ad un certo punto capisci che se vuoi diventare più grosso comunque se vuoi avere tanto se vuoi diventare grosso sai come se devi fare nel senso ci sono due modi o sfrutti la gente oppure nel senso cerchi di acquisire credibilità credizia e per fare sta roba qui non basta essere un tizio che ha semplicemente tipo una banca e fa a debito uno stipendio ma devi iniziare tipo ad acquistare tipo prodotti bancari ok che i prodotti bancari ti permettono di cioè passare dal cliente anonimo al cliente che oltre a versare dei soldi li spende anche all'interno della banca certo e quella roba lì vuol dire che tutte le volte che entri in banca dicono no signor Romano le faccio parlare con il direttore in quella maniera lì tu inizi a diventare un attimino più grosso diventare più grosso nel mio caso serve per determinate cose che non vi sto a raccontare nel senso per dei progetti segreti di conquista del mondo che ho io insieme a voi però aspetta mi sono persa per il caso di una persona che uno studio semplicemente significa riuscire ad avere tipo una spazio più grande ok iniziare a tentare di avere del credito in più tipo nemmeno del credito in più avere dei fili dei prodotti bancari che ti permettono magari di avere comunque dei dipendenti che tu ti stai a raccontare e allora non ha detto nessun segreto per diventare no il speech banca è come questo la metafora banca studio grafico ma ora ho capito però sì eravamo anche qua tutti attenti e dire oddio sta per svelare qualsiasi quel segreto è un pazzesco per me questo non è un segreto nel senso ti sei fatto come si dice SNC o SRL dipende sono due cose diverse noi siamo una partita IVA noi siamo un'impresa familiare saremmo dovuti diventare tipo un SRL l'anno prossimo ma il covid non ci ha detto che era meglio aspettare è meglio aspettare stanno e tu Cri che regola ti sei data cioè o se hai anche dei suggerimenti così per chi è concluso io sottoscrivo tutto quello che ha detto Marco ok assolutamente in più io faccio i fumetti e nei fumetti mi sono data le tutele crescenti nel senso che cioè arriverò a un certo punto che posso permettermi di stare un anno su un libro che mi viene pagato un anticipo perché poi i libri a fumetti vanno a forfè cioè tu ci puoi mettere un anno come due mesi tutta la vita viene pagata tutta la vita viene pagata quella cifra lì a forfè ok che però altro non è che un anticipo sui diritti d'autore ok cioè quanto il libro venderà i primi soldi serviranno a coprire l'anticipo che ti è stato dato prima e poi quando scavalli quindi il libro vende tanto da scavallare quell'anticipo che ti hanno dato all'inizio allora percepirai ogni anno qualcosina di diritto d'autore ok quindi molti fumettisti si basano sull'anticipo quindi anticipi bassi libri poi veloci super fast mordi e fuggi da libreria che passa una settimana e poi già va al macero e e vabbè il mio goal invece sarà permettermi di fare un libro con un anticipo che mi permette di starci su un po' il tempo necessario quindi un anticipo che adesso per l'Italia è impossibile vabbè quindi dico a tutte le crescenti perché appunto adesso sono a un'età e a un uno stadio della vita professionale che mi permette di avanzare un po' più di pretese di anticipo rispetto a uno che ha appena iniziato eccetera poi dipende anche dagli editori di fumetto e tutto qua in Italia o all'estero cioè è molto diversa la la situazione del mercato perché ovviamente in Italia si vendono meno fumetti per cui anche gli editori il rischio di impresa di un editore è minore in un mercato in cui si vendono meno fumetti quindi sa che per un fumetto puoi investire tot perché sa che ammortizzerà tot e non di più e non di meno cioè e invece un altro mercato che ha dei lettori forti e è ancora un mercato proprio un sogno per tutti gli autori perché appunto ha questo mercato florido ma anche una sensibilità verso il linguaggio del fumetto più spiccata ovvero ancora l'El Dorado resta la Francia ok però come dice Marco per le illustrazioni anche nel mondo del fumetto a livello globale si vede un un abbassamento ok certo cioè anche nei confronti di quelli più grossi più affermati più quindi chiaro ma invece dal vostro posizionamento online quindi il vostro brand personale comunque il fatto di essere molto presenti in qualche modo o sui social o su youtube o insomma sui vostri canali e essere cioè essere riconosciuti come nome questo fa un po' di gioco cioè per poter negoziare comunque un prezzo che voi ritenete giusto ecco per quello che vi stanno chiedendo fa gioco diciamo no si posso vai fa gioco nella misura in cui non è che dici ehi pezzo di merda ho un po' di follower pagami tos hai capito fa gioco nella misura in cui devi essere un po' gambero elegante no cioè quindi quindi non presenti gambero legati nel senso che magari tu dici oi valgo tot mi devi pagare tot non è che gli dici mi devi pagare tot perché gli metti la lista dei social e i conseguenti follower che hai no vabbè non intendevo quello eh no capito cioè quindi casomai se uno vuoi pagare quanto pensi che tu valga fai il gambero elegante ok il gambero elegante questa segnatevela tutti l'illustrazione subito del gambero elegante esatto domani è una esizione di una influencer che io amo tanto e che lo dice riferito ai Tinder date che sai quando devi fare ghosting non fai proprio ghosting ma fai il gambero elegante vabbè ho capito ho capito ho capito ho capito la situazione allora adesso ho capito anch'io purtroppo essendo un uomo sposato non ho mai avuto la fortuna di frequentare tipo Tinder e di fare quindi il gambero elegante quindi questo lo dicevo più che altro appunto come suggerimento perché in realtà rispetto alla consapevolezza al capire chi sai quanto vale eccetera eccetera e riallacciandomi all'argomento che abbiamo toccato appunto la puntata precedente quindi quella della promozione essere centrati e dire ok devo prendermi comunque cura del mio personale brand che non vuol dire semplicemente scegliersi il logo e farsi la paginetta web ma in qualche modo investire tempo per una presenza online anche quello ovviamente ti dà margine per per avere più o meno credibilità in qualche modo cioè il gioco che si fa adesso è anche questo sì 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 io veramente mi pento di esserci arrivata tardi eh sì anch'io sono arrivata tardi ma in realtà non più tardi di quanto cioè ho preso consapevolezza capito non è perché beh come fare i disegni gratis o pagati poco che ti viene la gastrite cioè se devi stare su internet e hai una presenza online che però ti fa stare male sei a disagio e stai con la gastrite ogni volta che devi fare un post non sta non starci cioè capito aspetta di trovare una tua chiave ma prima di tutto mentale tua interiore quindi gastrite come metro di giudizio universale sì 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 e nemmeno prevenzione della gastrite deve proprio arrivare cioè deve arrivare a quello stadio lì quando arriva fermatevi intanto nessuno vi corre dietro leggetevi nello sciame di Binjulan anche consigli letterari vedi Francesca brava anche consigli letterari e e anche in realtà quello di Lia Tolentino ok come si chiama ce l'ho qua Trick Mirror ok Trick Mirror super libro e no però appunto bisogna siamo arrivati in un momento storico in cui se non sei online qualcuno parlerà di te in un modo in cui tu non vorresti ah bella questa per cui è meglio presenziare uno spazio che è uno spazio virtuale e non è una cosa brutta non bisogna vergognarsi non è una cosa brutta e soprattutto non è che se tu lo presenzi allora togli del tempo al cioè ovviamente te lo gestisci bisogna gestirlo il tempo in un'ottica appunto imprenditoriale il problema è che il 2020 ci ha reso tutti imprenditori di noi stessi anche chi non ne ha bisogno ok anche veramente i pensionati ok purtroppo questo purtroppo lo posso dire quindi se comunque siamo giovani e abbiamo un'attività e vogliamo cercare di implementarla o comunque stare più a nostro agio anche online facciamoci due domande perché poi tutto parte sempre da noi non è che ci scende lo spirito santo e ci illumina d'immenso e quindi noi capiamo automaticamente perciò ho detto prendiamoci le nostre responsabilità ho dato dei consigli di libri perché leggere anche altro aiuta sono assolutamente d'accordo certo aiuta in quest'ottica cioè che ti rende consapevole del mondo in cui viviamo delle cose che succedono e come possiamo anche pararci dai colpi i colpi che sono fake news truffe frodi e quant'altro cioè in maniera più generica ecco assolutamente io mi sono persa tutto questo mi sono fatta coinvolgere dalla nostra conversazione mi sono persa totalmente i commenti nel frattempo arrivavano io stai leggendo si parla di macchine però non ho capito secondo me stanno litigando Angelo e Lord nel senso che sul discorso credo fosse collegato quando vi hanno detto il logo tutti hanno il logo eccetera eccetera e quindi stanno litigando un pochettino tra di loro ma credo abbiano smesso ma c'è qualche hater o qualcuno che dà fastidio no 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 non mi pare no non ancora eh lo so è brutto vero dovremmo averceli siamo ancora troppo un ambiente molto sano troppo sano troppo sano no dicevano che ad esempio un ragionamento fatto all'inizio inizio quando parlavamo di dare dei riferimenti di prezzo iniziare a risparmiare tempo potrebbe cioè per risparmiare tempo Angelo diceva possiamo dare una forbice di prezzo quindi riferito al fatto che all'inizio si diceva che magari passiamo Goran passa una giornata a fare preventivi io mi accodo in questo bagno di sangue e un'opzione potrebbe essere quella di dare una forbice di prezzo e iniziare a filtrare in questo caso Angelo dice potenziali i clienti stiamo parlando appunto di privati quindi magari diretto che ti chiedono quanto costa un sito web e il sito web ad esempio è una di quelle cose che è difficilissima da preventivare perché è piena di più che altro lo devi progettare prima di preventivarlo perché può essere tutto può essere niente e quindi sì quello effettivamente è un modo furbo per per filtrare un pochettino e non perdere troppo tempo né noi e nel cliente può essere quello di dare una forbice di prezzo per le illustrazioni non so quanto valga io non do mai forbici di prezzo perché poi la gente si affeziona sempre tipo al prezzo più piccolo perché poi se no dovrò passare del tempo a giustificare il perché sto richiedendo tipo il picco diciamo è anche vero per cui in realtà io preparo sempre degli scenari e in realtà i preventivi più grossi sono quando per esempio arriva la la mega agenzia che ti dice senti stiamo facendo questa roba qui e ci serve capire il tuo lavoro per tre illustrazioni sei illustrazioni nove illustrazioni 12 illustrazioni 15 illustrazioni per ognuna dobbiamo capire tipo quanto ci costa per un anno per tre anni per sei anni in perpetuo e per ognuna di queste dobbiamo capire poi tipo solo in Italia o in tutta Europa oppure nel tutto il bacino del Mediterraneo e allora lì non vai a fornici lì ti metti lì tabella di Excel e ti costruisci un prezzo che non contraddica l'altro tutte le volte fare un prezzo di per sé è una cazzata fare uno schema di prezzo dove quando hai tipo una tabella così che varia perché hai capito diverse variabili che appunto si incrociano tu devi sempre costruire un prezzo che sia effettivamente diciamo che sia inferiore diciamo rispetto a quella della variabile successiva ma che non non sia estremamente economico diciamo rispetto alla variabile successiva per cui devi fare tipo una specie di prova del 9 per ogni cazzo di prezzo che fai e fare e di incrementare grazie tipo a delle percentuali per cui vengono fuori dei cazzo di fogli Excel giganteschi ma tu mi mandi fogli Excel no? no il foglio Excel serve a me perché io poi sostituisco tipo la percentuale e ho di nuovo tutti i fogli tipo cioè ho di nuovo tutti i progetti aggiornati e non la percentuale la percentuale resta fissa però diciamo che il prezzo di partenza era boh tot se mi rendo conto che voglio fargli uno sconto e inserisco un valore più basso e automaticamente mi si completa tutto grazie Gabri che nel frattempo ha riportato i titoli consigliati da Cree nello Sciame e Trick Ah grande e così ce l'avete nella chat se li volete recuperare poi li mettiamo anche nella descrizione avete capito dove? e nel frattempo Gangatb dovete sapere che qua si sono tutti nickname impronunciabili mannaggia voi volevo vedere un film e invece non mi scollo da qui no non ti scollare non ti scollare il titolo è con noi su tutte le altre piattaforme esatto infatti che te frega e invece tu Cree cosa mandi? non mandi un Excel mandi un bel preventivo impaginato un Whatsapp ma sai che è da no è da sì due o tre anni che mando i preventivi tutti con il mio loghetto con le cose fatte a modino prima non lo facevi ma prima no scusate fatemi dire una roba io li faccio io li mando tutti discretamente impaginati su InDesign con i loghetti e tutti i colori istituzionali sì 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 che re siamo tutti sulla stessa barca no sono io solo che nel senso è la fase tipo di progettazione del preventivo che di formulazione del preventivo che è veramente un bagno di sangue tutte le volte sì formulazione è un bordello però ci sono delle robe che per carità sono semplici anche per con lo studio no? sì e con lo studio che ne so per i loghi ormai si va abbastanza spediti tanto il prezzo abbiamo stabilito quale dovrebbe essere più o meno un prezzo tipo per poi ci sono delle variabili che magari in base al cliente però sì diciamo che nei rari casi noi abbiamo un prezzo per i rari casi in cui tipo un privato ci chiede tipo un preventivo e è un preventivo invece per l'azienda normalmente per il logo dell'azienda no? chiaro quelle robe lì che sono mega basiche che sai chi devi fare sempre il solito round di bozze eh allora nel senso sono già proprio automatiche cambio semplicemente l'inventazione ma però le robe un pochino più complesse sono ovviamente due domande raffica per prima di chiudere lavorare gratis vi capita ancora? no sì lo faccio soltanto per le cause a cui tengo faccio volontariato in questo momento come Cri esatto adesso allora no dipende dalle cause ok no no cioè ogni volta io ho una risposta mia però poi Marco dice delle cose e condivido quindi dico no vabbè sì esatto però diciamo che non è che sai siamo una onlus vorresti lavorare per noi non funziona nel senso sono io che vado dalla onlus o comunque dalla persona che mi interessa e dico voglio mettermi a disposizione per fare questa roba come ti posso aiutare? certo sì sì queste sono ecco è una casistica diversa cioè quindi così a bruciapelo e dici gratis poi ci può essere anche la causa che non conoscevi che ti appassiona che incontri le persone giuste che te la raccomandano e la fai però diciamo che voglio vedere su Instagram come hanno risposto a questa domanda lavorare gratis solo per giuste cause 72% mai 28% comunque c'è una percentuale che non aveva presa in considerazione non è sbagliato e dipende come dipende un po' come te la vuoi vivere assolutamente diciamo che è esclusa l'ipotesi per visibilità ok vabbè l'abbiamo superata quella fase diciamo che quella fase ci ha levate dalle palle ma a parte che anche quando ero più giovincella mi è sempre cazzo questa cosa della visibilità quindi ci chiedono vi capita di trattare sulle tempistiche magari avete troppo lavoro ma non volete perdervi un'opportunità interessante voglia sì sì ma nessun problema fa parte della contrattazione quello esatto sì anche secondo me ma lo sa anche un cliente che non è che stai lì per lui voglio dire non tutti però sì qualcuno cioè io oggi sono andato dalla sarta e gli ho detto per quando mi rifai queste asole e abbiamo contrattato sul tempo di realizzazione di queste asole cioè voglio dire fa parte proprio della vita nel senso perché dovresti avere problemi tipo a richiedere più tempo anche io andrei tranquillo ultima domanda così a Bruciapelo lavorare per gli amici sì o no guarda io non ne ho tantissimi gli amici per cui non mi cade non ho proprio una risposta lavoro con degli amici lavoro con degli amici per clienti terzi ok ma lavorare per gli amici sì per gli amici esatto diciamo che non è che ho seminato tanto dal punto di vista dei rapporti umani io uguale ok ok e invece su Instagram alla domanda meglio lavoro sicuro oggi ho un lavoro meglio pagato domani indovinate qual è stata la percentuale quello sicuro sicuro oggi anch'io pensavo avrebbero votato così invece 81% ha votato un lavoro meglio pagato domani pazzesco non l'avrei detto no io comunque non avrei mai saputo rispondere tipo a questo così su Instagram no no perché comunque nel senso voglio dire lavoro sicuro oggi ma poi ho la sicurezza che domani mi arriverà un lavoro migliore se ce l'ho allora sì ma se non ce l'ho meglio lavoro sicuro sì sì infatti è comunque un dilemma nel senso che tanto nel momento in cui fai l'illustratore ovvero ti occupi veramente dell'effimero più effimero di tutti io non c'è stato mai un momento della mia vita in cui tipo ho detto sì sono arrivato via chi se ne frega questo lavoro lo posso tranquillamente pisciare no no cioè tuttora se non entro un lavoro tipo per un mese tipo entro in paranoia poi il mese successivo entra tutti felici ok però cioè io comunque non cioè so che tutto quello che mi arriverà è perché tipo ho cercato di costruirlo sì certo come lo sono cercato per cui non non do per scontato il fatto che mi arriveranno tipo a vita lavori capito cioè nel senso non riesco ad avere sarò sempre tipo per sì dammi dammi il lavoro oggi poi se arriva quello migliore domani troverò il modo di fare anche quello anche quello ah ok certo vabbè però non sei sicuro di come stai seminando cioè abbiamo parlato di karma tutta la puntata non sei non ti dà tranquillità quell'aspetto lì ma sai si dice karma è sabice per cui aspetta per fidarti del karma no il discorso è che sai dipende di chi sei figlio nel senso e di e di come si sei abituato nel senso sì ma non voglio fare tipo la storia proprio da da libro cuore però voglio dire io sono figlio di moderno proletario no primo di tre figli e terrone in una città che da 15 anni in città che non sono le mie dove non ho nessuna rete diciamo ad appoggio per cui per me non esiste l'opzione ah poi torno a casa perché quando torno a casa torno a un posto dove non c'è nemmeno internet e adesso nel senso no sono sposato o case ho la casa o cose o lo studio e tutto quello che impegni o gli onori di avere tipo un'attività per me non si scherza su questo nel senso che piuttosto tipo mi rompo il culo e li faccio entrano però nel senso non 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 scarterò mai grasso capito cioè nel senso non io vivo sempre questa spiegazione mi sta aiutando a capire un po' meglio Angelo che è settato esattamente come te e io invece faccio fatica a capirlo perché sono sempre tipo ma no ma andrà bene ma no ma siamo bravi no ma ci spacchiamo il culo io sono uguale a te io sono uguale a te e non è che ho patito la fame però è quella mentalità che cioè per me non è mai abbastanza e devo fare tutto quello che arriva certo poi infatti nel senso diventano magari ci sono dei periodi in cui sto per esplodere perché ho preso più roba di quanto non sì però lo capisco certo e tu Cri? è uguale 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 però io ho più fiducia cioè anch'io appunto vengo da una famiglia di proletari e per me l'ipotesi di tornare a casa non è contemplabile fare il passato dire Napoli non era proprio contemplato capito ma anche per una mia sanità mentale più che e se non ti arriva al lavoro per un mese vai in paranoia cioè se per un mese sei scoperta paranoia è abbastanza però sono anche molto fiduciosa cioè nel senso so anche che magari quel mese se vedo che non mi arriva lavoro dico ok non sto lavorando però allo stesso tempo lavoro per me perché so che è un ritorno certo per un prossimo lavoro che arriverà quindi la presenza online dipende anche da questo capito se a un certo punto non stai facendo niente beh cazzo hai te stesso fai qualcosa muovi il culo e fai quello che non dovresti però ecco è è un autolavoro capito a un certo punto poi magari fai dei progetti personali cioè ti prendi del tempo per te davvero sì 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 cioè quante volte a me mi è capitato di passare periodi in cui non stavo disegnando stavo disegnando solo cose per altri e mi ritrovavo a pensare cazzo ma io vorrei fare un bel progetto mio personale poi è arrivato il corona cazzo e e li ho fatti capito certo cioè perché poi stai pure appunto che io soffro la mancanza di uno spazio in cui ti prepari delle cose tue di ricerca tua e e non sono disegni che devi fare per ok chiaro e e quindi nel momento in cui magari può capitare che appunto ti trovi in un periodo come diceva Marco no in cui un mese fatturi 100 e l'altro 20.000 eh oh capitano cioè è così e e che fai nel mese in cui fatturi 100 dici vabbò è entrato 100 però cioè te la tiri via e dici ok in questo mese però ho spaccato sull'altro fronte che invece mi permette anche di guadagnare 20.000 cioè certo no io sono assolutamente d'accordo sì mi riconosco in più nel in quello che hai detto tu però capisco appunto davvero anche Marco perché appunto Angelo ad esempio che è presentato così ma io pure capisco 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 allora io direi che siamo giunti sul sul finale ah abbiamo una domanda aspettate la mia domanda esola un po' dal prezzo ma per curiosità in percentuale quanto tempo dedicate al lavoro e quanto a nutrirvi a livello personale e quanto all'occhio così chiudiamo con questa la vuoi la vuoi in percentuale in o in Excel così magari chiediamo però ci dico solo una cosa io tre volte a settimana la mattina cascasse il mondo non importa la quantità di lavoro che ho ok ogni settimana almeno fino a quando non avevano chiuso le palestre adesso speriamo che non le chiudano ancora vado in palestre grande si chiedeva così ok sì grande e non può allora quella parte lì comprende ozio non lo so però non è produttivo come tempo ok però fa parte del benessere fisico è importante automaticamente il benessere mentale cioè io le meglio scene di non so chi sei il mio fumetto quello per Rizzoli le ho pensate sul tapirulan cioè capi io faccio lavoro che poi è pure molto mentale cioè il raccontare e trovare l'incastro narrativo la sequenza è tutto cioè io non riesco a stare così sulla scrivania a fissare un foglio bianco e le idee mi vengono col cazzo cioè le idee che tu trasporti su photoshop illustrator o comunque su un supporto digitale ti devono venire da te che sei analogico no poi vabbè farò anche un articolo su il potere del tracciare degli schizzi sulla carta di base no e poi andare sul digitale e il potere proprio performativo del corpo che si muove ti permette anche di avere un motore ragionativo certo perché tu quello che fai sulla carta e poi lo fai a computer lo devi prima pensare e il progetto il progettare parte prima da qua e se qua sta incastrando cioè a me mi capita di avere dei momenti in cui mi sento in un angolo a fare così sai che non esci dall'angolo e appena ti muovi un attimo cambi area o appunto ti vai in palestra e sudi tutto il grasso che hai avendo però Gabry Tesk voleva sapere per curiosità la percentuale no la percentuale amici farei 30 questo movimento eccetera no sto scherzando hai risposto no io direi allora noi lavoriamo per vivere o viviamo per lavorare ecco lasciamoci così con questa massima eh no perché se tu mi dici la percentuale non lo dico io non lo dice Gabry Tesk no cioè fatti questa domanda esatto e datti la risposta da solo esatto allora io direi che dopo il karma beach il gambero elegante e le altre perle di questa sera possiamo chiudere la puntata qui ma secondo me possiamo continuare a parlare a confrontarci sul sul gruppo facebook di di pangramma tanto trovate sia Cri e sia Marco vi invito però a seguirli anche sul loro canale youtube hanno due canali e fanno un sacco di video molto interessanti su questo tema ma in generale un po' sulla sulla professione e ci possiamo ritrovare sul gruppo facebook di pangramma e l'altra cosa che non abbiamo mai detto è che iniziamo così a così anticiparvi e e che per tutti i freelance junior all'ascolto presto verso il mese di marzo ci sarà una call per per selezionare dei freelance talentuosi che vogliono entrare a far parte del nostro network nel frattempo per chi avesse dubbi su preventivi avesse bisogno per diciamo chiudere dei progetti una mano anche un supporto magari complementare appunto di guida per per finire diciamo un progetto magari complesso che in questo momento vi spaventa scriveteci scrivete a pangramma e saremo felici di rispondervi io ringrazio tutti quelli che hanno seguito fino a questo momento grazie mille anche a chi ha rinunciato il film per vedere la nostra diretta ringrazio Marco ringrazio Cristina grazie mille e ci vediamo grazie a voi prossimamente direi se vi fa piacere siamo saremo felici di riavervi con noi grazie ancora grazie buona serata a tutti grazie ciao 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 ciao